Buongiorno popolo rossonero, popolo del bandito, buon venerdì 26 di gennaio. Innanzitutto volevo stamattina, in questo giorno di vigilia di Milan-Bologna, ringraziare gli abbonati nuovi, quelli che da tanto tempo sono abbonati al canale, e Patrizio che ieri ha fatto una donazione, quindi grazie, grazie a Patrizio, grazie a Massimo Scarpona, a Giuseppe Riefolo, a Enzo Rosio, a Luigi Franconi, a Nino Milanista in Svizzera, Giacomo Alfredo Dall'Angelo, Riccardo Rapposelli, Daniele Merli, Ioane, Marco Capelli, Davies Buccellè, Alessandro Mascheroni, Fabrizio Messina, Maurizio Longhi, Giancarlo Ferrarini, Mario Guido Mancosu, Sattelnav, Rosario Zappalà, Ciopper, Marco Squarcina, Ivan Binatti, Dario Secchi, Luca, e poi gli storici, Ivano Iacomella, Giovanni Bruno, Emanuele B, Mediolanum, grazie a tutti, grazie veramente, e sono molto onorato, diciamo, di avervi come abbonati al canale, ringraziato anche Patrizio, vi ricordo di like al video, l'iscrizione mi raccomando, la campanella per le notifiche, e se volete fare o farvi un regalo, la cover del bandito, o del collo del bandito, nel link in descrizione, con lo sconto del 25%. Possiamo partire col video di oggi, che è video di vigilia, con la segna stampa di oggi, e poi, insomma, qualche considerazione su Milan-Bologna, perché in periodo di mercato si parla poco, o se ne parla proprio a ridosso di quello che è la partita, ma per noi la partita domani è molto, 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 molto importante, complicata, perché Bologna quest'anno è una squadra complicata per tutti, e quindi dobbiamo iniziare ad accernarne e a parlarne, perché oramai manca poco. Io vi confido, ho una voglia, non so, mi sembra tanto che non vado a San Siro, ho una voglia veramente pazzesca di vivere l'atmosfera dello stadio, che è sempre magica. Quest'anno solo in un paio di volte mi ha deluso, visti i risultati, visto il momento in cui siamo entrati in crisi, nel momento degli infortuni, però anche a Milan-Roma ho ritrovato quello spirito, ho ritrovato quella, e quindi ho una grandissima voglia di tornare a San Siro. Gazzetta dello Sport, fornitore ufficiale ovviamente della Cartonese, e parla di noi, si occupa di noi oggi con Giroud, sempre con Pioli, più leader grazie a Ibra, e Leao sa che deve fare di più, e speriamo che Leao cominci da domani a fare di più. Buon anno Vlauic, in gol ogni 60 minuti, ovviamente poi c'è il duello, no? Ti occupa del duello, in questo momento il duello scudetto, e quindi poi c'è come viaggia l'Inter, Fiorentina avvisata. Corriere dello Sport, ballando con le stelle, capelli fluenti, libera e bella, qui non ci sono dubbi, di noi non si parla. Al giochetto Juventus-Inter-Napoli-Roma si aggiunge il Bologna oggi, ma noi proprio non esistiamo per Zazza noi, non esistiamo. Il gioco lo fa Max, un mese in volata, si incomincia, adesso sarà così fino al 4, quando ci sarà la partita, lo scontro diretto, sarà sempre tutti i giorni un, diciamo, un botte e risposta, no? Per presentare questa partita. Poi siamo al Napoli, arriva Perez, il Napoli è rifatto. Mi ha stupito questo movimentismo dei laurenti sul mercato invernale, non lo so, non me l'aspettavo. Poi bisogna vedere, non è che abbiano preso, però, diciamo, hanno speso e non me l'aspettavo. Baldanzi, Angeligno, tutto in sette giorni, per questo ovviamente riguarda la Roma, e poi abbiamo anche l'inserimento del Bologna, chissà, forse perché gioca contro di noi domani. Emozione Castro, Bologna, che bello, per il nuovo acquisto bolognese. E tutto sport, tutto sport, ovviamente Juventus, qui non si discute, Juventus per tutte le età, usato sicuro, i giovani talenti, che è il mix, diciamo che, di solito viene definito il mix vittorioso, vediamo e vedremo se sarà così anche questa volta. Qualcuno, tu solo tutto sport, si occupa in prima pagina del caso UEFA, con Boban, che inchioda Shefferin, e insomma, durissima la lettera, la lettera di di Zvone, che si conferma uomo tutto di un pezzo, non disposto a sotterfugi e a inganni, quindi complimenti e un applauso a Zvone Boban. Per quanto riguarda il nostro amato, amatissimo Milan, in vista della partita di domani, come mi aspettavo, esami per Ben Nasser, problema muscolare, ora, non hanno, non c'è un comunicato che specifichi l'entità, ma, vi dicevo nel video di ieri o dell'altro ieri, se aveva saltato due partite con l'Algeria, partite poi importanti, perché hanno portato, potevano portare o a una qualificazione o a una esclusione, hanno portato all'esclusione, se non aveva giocato. Mi meraviglio di degli articoli usciti il giorno che ha fatto gli esami con la sua nazionale, ricordo alla sera all'allarme, alla mattina poi notizie in cui si diceva che in realtà non aveva nulla, ricordo proprio diversi articoli di questo tenore, anzi tutti praticamente, tant'è che io pensavo magari saltasse una partita per precauzione e poi giocasse l'altra, ma quando ho visto che neanche nella partita decisiva è stato impiegato, insomma, siccome spesso due più due fa quattro, anche se quindi in Italia ultimamente ci fanno credere che faccia cinque, ho pensato che chiaramente ci fosse un infortunio, confermato dagli esami che ha svolto quindi non ci sarà col Bologna già ci dicono che probabilmente non ci sarà neanche nella prossima incrociamo le dita perché altrimenti qui la richiesta di Mr. Pioli di un centrocampista insomma comincia a avere già prima aveva un senso una logica ma diventa impellente perché se rischiamo che un infortunio ce lo porti via ancora più di quello che ce lo avrebbe tolto ipotizzando un percorso fino in fondo dell'Algeria in Coppa d'Africa ecco che noi rischiamo di arrivare veramente al doppio impegno con Rennes in Europa League insomma tirati 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 anche perché noi dobbiamo considerare che non è detto visto i nostri chiari di luna che arriviamo a quella partita con tutta questa rosa a disposizione quella che abbiamo in questo momento e cioè potrebbe anche esserci non lo voglio dire per non ce lo esorcizziamo ma se facesse male un difensore un centrocampista saremmo in difficoltà enormi ma veramente enormi saremmo costretti un'altra volta ad attingere la primavera e poi c'è il discorso liste c'è il discorso liste che insomma ci condizionerà ancora di più il discorso liste UEFA quindi noi ci stiamo prendendo almeno la società si sta prendendo un grosso rischio non intervenendo con un difensore o un centrocampista e insomma speriamo vada tutto bene ma è un rischio che rischiamo di rischiamo di pagare se non ci muoveremo perché insomma il mercato serve a quello vediamo oggi come evolve la situazione vediamo conferenza stampa ipotesi di disinformazione io per il momento oltre che ringraziarvi ancora e dirvi che adesso è presto presto e ne approfitto per vedere un po' come va Sin Djokovic prima di andare al lavoro pomeriggio mi raccomando per le news su Milan Bologna che si avvicina e non vedo l'ora Forza Milan